Salve, questa volta mi sono recata presso una villa situata nelle campagne di San Floro. Questa villa era appartenuta da un uomo che si era arricchito grazie alle sue abilità ed è conosciuta come Agrutta, cioè la grotta, ed è per l'appunto situata fuori dal paese. Diciamo che la maggior parte delle stanze è crollata, quindi si trova ben poco, solo 3-4 stanze, però comunque all'esterno addirittura ho trovato anche una piscina, una vecchia piscina, che è rimasta praticamente intatta, mentre una casa che si situava di fronte alla villa principale è completamente crollata, quindi ci trovano solo le macerie. Comunque la villa nel complesso è abbastanza pericolante, quindi è pericoloso andarci, anche perché tra l'altro la strada non è delle migliori, soprattutto in questo periodo è piena di erbacce e di roghi, quindi è stato molto difficile arrivare sul luogo. Comunque è stata una bella esperienza e vi lascio le immagini. Comunque è stata una bella esperienza e vi lascio le immagini. Comunque è stata una bella esperienza e vi lascio le immagini. Comunque è stata una bella esperienza e vi lascio le immagini. Comunque è stata una bella esperienza e vi lascio le immagini. Grazie a tutti